L'unica cosa che il viaggiatore può programmare indicativamente è il percorso. Io ho pianificato le accoglienze o comunque luoghi da visitare, poi una volta che si parte si è in balia degli eventi, può succedere di tutto, quindi io dico mi affido all'universo, vediamo quello che succede, quindi può capitare che improvvisamente arriva un acquazzone e ti riempi l'acqua dalla testa ai piedi, oppure che una bellissima giornata di sole si trasforma in una giornata di nebbia e uno si ritrova a dover mettere ancora fiducia e fede nel percorso in cui sta seguendo, perché dice ma non riesco a vedere neanche la punta del mio naso e chissà dove sto andando se il navigatore mi porterà a destinazione. Allora, nel primo viaggio sono partito a Cerro Marina e quindi sono passato poi da Umbriatico, Verzino, Caccuri, San Giovanni, Lorica, Camigliatello, Celico, Cosenza, San Fili e infine Paola.